Sono aperte le iscrizioni per il corso di laurea triennale Paisaggio, Ambiente e Verde Urbano nell'ambito dell'offerta didattica delle Università degli Studi della Basilicata. Questo corso di studi si inserisce nella classe di laurea L21, ovvero Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, Alimentari e Ambientali. Il percorso di studi mira a fornire una preparazione di base che consenta al laureato di affrontare l'analisi, l'interpretazione e la rappresentazione del paesaggio come risultato dinamico del rapporto uomo e ambiente tra natura e cultura, le conoscenze delle matrici ambientali terra, area, acqua e della biodiversità che sono necessarie all'analisi, alla gestione e al recupero dei bacini idrografici e degli ecosistemi naturali, rurali e agro-urbani, la capacità di intervenire nella progettazione e gestione degli spazi verdi, dei parchi, degli orti e dei giardini pubblici e privati in funzione di una rigenerazione degli ambienti urbani fortemente antropizzati, le competenze di base delle tecniche di pianificazione territoriale e paesaggistica e le abilità nell'uso delle tecnologie informatiche per l'elaborazione e rappresentazione dei dati territoriali ed ambientali ed anche la conoscenza della normativa e delle politiche per il governo del paesaggio, oltre che dei metodi di valutazione degli impatti economici, sociali e ambientali esercitati dalle opere di trasformazione del territorio.